Riprende via il progetto della Fiorentina Women, scuola e mettiamoci all'opera, pensato per promuovere il calcio femminile e insegnare ai bimbi l'importanza di assecondare i propri sogni. Protagonisti oggi i piccoli della quinta elementare della scuola Damiano Chiesa, che insieme a Greta Dami e Mister Riella hanno preso parte a questo primo appuntamento. Come consueto, la mattinata si è divisa tra una parte in classe e una parte all'aperto. Dopo il saluto della calciatrice e la proiezione di un filmato di presentazione, parola ai bimbi che hanno condiviso pensieri e desideri. Novità di quest'anno è la merenda dello sportivo, progettata e realizzata dai partner della viola femminile Opera Catering e Villa Donatello, che è stata consegnata agli scolari come parte di uno stile di vita da veri atleti. E dopo, tutto in cortile per giocare con il pallone agli ordini di Mister Riella. Sper il Buonno Sper le Grazie a tutti